Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars Visto che non so se riesco a fare il TG perchè domani lavoro lo stesso di pomeriggio Allora ho deciso di prendere alcuni di voi random e portare un po' di gameplay Arriviamo a 2.000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se no E lasciate l'hashtag Brawl Stars qua sotto i commenti per ricevere un coricino E andiamo avanti perchè andiamo a fare un po' di mappe per la gara a raffagemme ragazzi Che sono quelle che sicuramente avete visto ieri Oggi vado a farmi queste partite random con le mappe che arriveranno a casaccio Con appunto Rivo e LP Gamer, andiamo in gioco E ci siamo, mappa totalmente random, vediamo com'è Allora piena di cespuglie, tante zone coperte fino alla parte centrale Molto interessante, hanno già preso un punticino dalla loro parte Hanno un tick che potrebbe essere un grosso, ripeto un grosso, grossissimo problema Rivo sta venendo colpito veramente tante volte lì al centro Non riusciamo ad avvicinarci perchè abbiamo probabilmente troppi personaggi fisici Ok, una mega cura gli è partita a Rivo, grazie Oh no, è stato colpito È stato colpito, curalo Eh, io sto a tirare tutto, rega Wow, Rivo si è salvato Cosa? Eh, non lo riesco a curare alla grande Non ce la faccio L'ho salvato No, bomba Sulla mia faccia Cattiveria Cattiveria enorme, però stiamo ancora in vantaggio Stiamo ancora in vantaggio, sto tornando ad aiutare i miei compagni Se ce la faccio in tempo Curiamolo Ok Cerchiamo di curarlo al meglio Non mi frega niente, l'ho sprecata Ma serviva perchè tanto ci stanno questi che rompono Ecco, lo muore subito Perfezione Ok, io ho forse levato il problema Ah, stavo per morire, ci è mancato un pelo Guardate con quanto lo sto curando E con quanto sto sopravvivendo Ok, penso di aver sprecato qualche gadget di troppo Oh, mamma mia Fortuna che ho l'ecurone E noi ci abbiamo contro quel maledetto dick Che sta a dare un fastidio enorme Perchè siamo troppi Stancosi E pochi aggressive Ok Aiutiamolo Perfetto Vai Vai No Porca miseria Ok, ci abbiamo ancora al vantaggio Ci abbiamo ancora al vantaggio Damose Ok, io faccio finta di stare di qua Così lui se le tiene tutte Aia, perfetto Muoveranno contro di me No, ci è venuta la bomba contro di me Vai Rives Scappa 3, 2, 1 Portata a casa la prima vittoria di oggi Continuiamo e vediamo come andiamo con questa squadra Perchè già siamo appunto Con la stessa squadra di prima Perfetto Oh Mi sono tippato là per sbaglio Pensavo fosse scarico il teletrasporto Invece si era già ricaricato Eh, abbiamo ottenuto uno svantaggio Sare dire Però il mortis potrebbe darci un piccolo aiuto Grazie Ci siamo invertiti in pratica Noi stiamo di qua Loro stanno di là Molto sempli Vai così Ah E questo Porca miseria Dov'è il nostro terzo Ecco la rosa Arrivata Oh Curalo Marduk Curalo Perfetto No, se ti è trasportato così randomico Ok, vabbè A parte che erano full Ho sprecato una super abbastanza Ghiozza Ok Ci piace il bull Cattivissimo nostro Oh Pazzia Pazzia Full cure Vi avverto ragazzi Che potrebbe uscire A giorni Anche un altro video Molto interessante Su dei bellissimi Analogici Per Touchscreen Ok Mi sono curato Ma non penso di salvarmi Perché loro stanno tutti giù Questa mappa Che si inverte così sopra e sotto Mi dà un sacco Di preoccupazioni Infatti È quello che è successo Allora Io mi deve trasporto Qua Se ci diciamo Ok Ci ho provato Ma penso Prenderò un sacco De botte Da stomortis Infatti È quello che è successo Però Leone è stato eliminato Mi ci ha lasciato Un po' di tempo Un po' di vita Ok La vedo molto brutta Ragazzi Oh Guardalo Rivets Pazzesco No Perché state là Ragazzi Avete visto Rivets Pazzite Ok Ok l'ho curato Spero che riesca a scappare Brutta situazione Ok Vai che lo curo Vai che lo fullo Se n'è andato con tutte le gemme che poteva Perfetto Perfettissimo ragazzi Eh Mi piacerebbe curare di più lui Ok Guardate che vittoria ci stiamo portando a casa oggi Ah io ogni tanto mi ingrippo io però eh Perfetto Vinta anche questa E si prosegue così ragazzi Altra partitozza per noi Altra mappa Questa come è stata impostata Mi dà un po' Un po' fastidio Lo devo ammettere Lo devo Abbastanza ammettere Oh Due piper Ragazzi Due piper dall'altra parte Perché sta cosa Non è giusto No Doppia piper Però tolgono protezione A noi Eh beh Ok Eliminata malissimo Poverina Ok Cerchiamo di mantenerci Mamma mia Doppia cura Giustamente Bombardaino Con la cura Ok Che te dico a te Ah peccato che ho preso soltanto Elpi e non sono riuscito a prendere Il nostro amico Rivoz Preso Eliminato Vai così Fullato Beh però Questa volta è andata un po' A rischio Allora Stiamo in vantaggio Di pochino Però ci siamo Eh Mo ci arrivano all'attacco Ecco l'omortis che arriva Guardatelo Muori prima Muori prima Oh Pazzia Mi son dato Perfetta Ha vinto anche questa Non ci facciamo mancare le partite E continuiamo con questa squadra Fino a mo l'abbiamo vinte tutte ragazzi Pazzesco E vi possono confermare loro Il fattore che Appunto abbiamo vinto tutto Adesso bisogna vedere eh Magari arriva quella persa Eccola Eccola Ma no Circondella A parte che ero io dalla loro parte Allora queste mappe con i teletrasporti Mi danno un po' di Fastidio Non tanto per Questioni tattiche Ma perché Possono creare confusione Che è quello che ci sta creando Ma SPJ io lo conosco o sbaglio ragazzi È mai uno dei nostri Io mi ricordo SPJ Ma ci fosse capitato Il nostro SPJ Chi lo sa Può essere eh Non l'ho preso Non l'ho preso Mamma mia Son pirla Ok L'ho eliminati Perfetto Perfetto È il nostro SPJ ragazzi Ci ha fatto il saluto Ci sta salutando Dai non ci credo Ci è capitato SPJ contro Amico nostro Grande Grande Allora l'ho curato giusto in tempo Just in tempo Grazie SPJ Speriamo che non ce la regala Così a gratis Che ce la fa almeno un po' Sudare E invece Ok 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 Non mi parte il gadget Ah No è saltato via Ragazzi è saltato via Che sfortuna E mo Che devo inventarmi Ok vado in su No sono andato in su Dalla parte opposta Bella SP Ok Oh no Che cosa è successo ragazzi Raze si è teletrasportato Per sbaglio E ha sprecato la super Teletrasportandosi In quella maniera E SPJ ci sta regalando La partita In pratica Già si vede Guardatelo Bello rilassato Che aspetta che vinciamo Molto gentile Oh Quella botta L'ho sentita pure io Perfetto Vinta anche questa Direi che ci facciamo Quest'ultima partita Ragazzi abbiamo fatto Diverse parti Tozze con loro In queste mappe Raffaggiamo totalmente random Ecco un'altra volta I teletrasporti Boom No si è teletrasportato Per sbaglio Non ci credo Regà si è teletrasportato Per sbaglio Io non mi volevo Teletrasportare In verità Vi dico Oh 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 Lì c'è uno Con poca vita Io me do Perfetto Che piace Ok io curo lui Perché il mio interesse È che Ci prendiamo le gemme E ce le portiamo Belle a casuccia Come se non T'ho visto Colt Si colt Vabbè Ho detto bene Eccolo Grazie Mi hai fatto pure Caricare bene la super Molto gentile Intanto Tiriamo lì su Elpi Oh 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 Eliminazione De cattiveria Aia Aia lo vedo brutto Ah l'ho sentato Du 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 Non so che stavo dicendo Ma mi sono intrecciato Pesantemente Con la lingua Ok abbiamo Lui dietro Paura Paura tattica Oh Un coltino Che prende botte Perfetto Eh vorrei curare Elpi Porca no Elpi volevo curare In realtà La gioessi E invece Non ci sono riuscita Aia Chi era Ragazzi Ho avuto il colt Da dietro Pesantissimo Eh ci hanno preso male Ragazzi Ci hanno preso male Ci hanno preso male Però ho ucciso quello Dai è recuperabile Oh 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 Amato Cosa Chi Vieni qua Vieni qua Ah ah Dai Veramente ci ha creduto Quello ragazzi Ci ha creduto L'importante è che ci ha creduto Lui Oh No Che sfortuna Regà Però Elpi sta facendo Veramente un gioco Veramente stupendo No È stato colpito Chi è Dov'è Perché Mamma mia Sto combattendo Uno contro due Di peso Eh Stanno in vantaggio Loro È un po' tosta Regà No Penso di no La vedo molto brutta Ok 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 Niente Questa la stiamo provando Potrebbe essere L'ultima partita E anche la prima persa Ci proviamo Dai La speranza è l'ultima a morire Se dice Anche se qua È tosta Eh Eccoli Nulla Mi si è anche fermato il personaggio Benissimo Va bene Dai La prima persa Ragazzi Penso di essermi fatto Abbastanza partite Con alcuni di voi Infatti Uno dei ragazzi Se n'è andato Lo saluto tantissimo Vi ringrazio anche Rivoz per le partite Che ha fatto Insieme a me Arriviamo a 2.000 like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se no vi lascia L'hashtag Browstars Passate nei commenti Felice Roccocino E se volete vedere Altri video gameplay Assolutamente Lasciate like E condividetelo Con i vostri amici Almeno continuiamo A portare qualche cosa Di interessante Sul canale Ci vediamo Nel prossimo video